Credo che occorra costruire dei ponti tra verità e diplomazia al fine di approfondire realmente i legami di interdependenza e amicizia tra i popoli e le nazioni del mondo. La diplomazia ha bisogno della verità e della mano della ragione per non scadere nella mera ed egocentrica strumentalità umana. La diplomazia ha bisogno della verità per alimentare divattiti trasparenti e autentici processi di costruzione di comunità. Unendo verità e diplomazia, l'attività diplomatica può essere colmata con il tipo di contenuto relazionale e sociale necessario alla costruzione e al mantenimento di relazioni sociopolitiche inclusive e etiche.